Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Red Dead Redemption e oggi finalmente abbiamo raggiunto il 100% del gioco. Non abbiamo ancora platinato il gioco perché mi manca ancora di fare Hunter the Nightmare, che andremo a fare in live poi, e poi faremo anche il 100% di quello e platineremo l'intero gioco. Oggi siamo al 100% del gioco, come potete vedere, statistiche, abbiamo 100% completamente del gioco. E infatti adesso abbiamo anche sbloccato il vestito del 100% e abbiamo anche sbloccato l'uniforme, questa qua praticamente, che si sblocca una volta arrivato al 100%. Quando la indossi la legge non può toccarti. Buona, direi. Possiamo fare quello che vogliamo. Uccidere di qua e di là e buonanotte. Sicuramente sarà un vestito di un poliziotto importante, sicuramente. Penso io. Andiamo pure a mettere. Cazzo, bello. Non do una salvata così, do anche il salvataggio quello manuale, lì do il 100%. E niente, adesso vi spiego un po' come fare il 100% in questo gioco. Per chi ha comprato anche la, chiamiamola, la remastered per PS4 e PS5. Vi ricordo che io sono su PS5, con la versione fisica per PS4. Per fare il 100% dovete, innanzitutto, completare il gioco. Vabbè, ma quello è logico. Finire tutte le missioni della storia. Poi, fare tutte le missioni degli sconosciuti. E poi fare le ronde notturne. La ronda notturna. Ovvero, la dovete fare in tre luoghi. Le dovete fare. Una, basta farne una. Quindi queste qua, a forma di luna. Queste missioni della forma. Una a Blackwater. Una, basta farla qua in Messico. Va bene anche qua. Dove siamo adesso? Ecco qua. A Ciuparossa. E una, dove c'è il range di Bonny. Da dove sta? No. No, armadillo no. Perché, se non mi sbaglio, un armadillo non c'era. Dove cazzo sta? No, non è qua. Dove cazzo sta il coso di Bonny? Mi sono un attimo perso. Allora, fammi vedere. Ah, qua. Ecco qua. Ecco qua. Basta completarne una e farle. Poi, bisogna fare tutti i covi dei banditi. Tutti e otto i covi dei banditi. Che sono sparsi un po' di qua. Un po'... Comunque, la maggior... Cioè, sono tutti... Tutti qua, praticamente, la maggior parte. Tutti qua. Qua e in Messico. Nel nuovo... In questo posto qua, se non mi sbaglio, non ce n'erano. Non voglio sbagliarmi, però, eh. Se non mi sbaglio qua, non ce n'erano. Comunque, vabbè. Poi, fare le taglie. Perché a me non me ne appaiono. Comunque, quelli là che, solitamente, tipo... Un modo per farle velocemente è andare a salvare. Far fare sempre giorno. E tipo qua, dovete fare tipo una in Messico. Una dove c'è Blackwater. E una in New Austin, qua. Da queste parti. Ovvero, le avvicinate qua. E poi vedete lo sceriffo che qua, praticamente, questo è uno dei punti. Attacca il fogliezione della taglia. E dovete, praticamente, farne otto qua in Messico. Otto taglie. Non c'è bisogno di portare il ricercato vivo. Basta anche ucciderlo. E poi ritornare e completare la missione. Una ad armadillo. Praticamente qua, dove c'è quello che vende i giornali, lo sceriffo andrà ad attaccare la taglia. E dovete farne otto, ad armadillo. Anche uccidendolo, non fa niente. E una a... E quattro a Blackwater. Basta andare qua, dove c'è quello là, dove andiamo a pagare le taglie. Praticamente all'interno di quel posto, sulla sinistra, sul muro, ci sarà sempre lo sceriffo. Fate questo trucchetto che andate e venite, andate e venite, sempre di mattina salvate, poi andate di mattina. Per fare tutti di seguito, senza perdere tempo. Perché se no, ogni volta, non spawnano, diciamo, velocemente. Poi, 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 poi... I minigiochi e le sfide. Ovvero, dovete fare... Dovete giocare almeno una volta a tutti i giochi d'azzardo. Ovvero, Blackjack, a poker, a dadi bugiardi. Poi, cosa c'era più? Ferri di cavallo, cinque dita, braccio di ferro. Non dovete per forza vingere, ma basta, ovviamente, giocare una volta, completare una volta il gioco e buonanotte. Poi, i vestiti. Dovete completare tutti i vestiti. Per chi ha la versione nuova, non ha la versione PS3, eh, o Xbox 360, dovete praticamente sbloccare tutti i vestiti. Il saggio mercante non c'è bisogno perché è un DLC. E neanche questo qui, aspetta, ve lo faccio vedere. Neanche questo qua, cacciatore esperto. Questo qua non va sbloccato per il 100%, perché pure questo qua è un DLC. Tutti gli altri, come potete vedere, dovete sbloccarli per il 100%. Quindi fate le varie sfide, le varie cose che vi chiedono. Ci sono un sacco di video su internet di persone, ragazzi, che, bravissimi, che praticamente fanno vedere come si fanno. Io mi sono pure aiutato da là. Seguite quelle guide, è una cazzata a farlo, assolutamente. Niente di difficile, per sbloccare tutti i costumi. Poi, ci sono le sfide ambientali. Ovvero, che mo qua non me le dà perché, giustamente, io le ho completate tutte. Comunque dovete, tipo, io ho fatto i video sul canale della caccia al tesoro. Dovete fare il cacciatore di tesori, livello 10, quindi trovare tutti i 10 tesori. Poi c'è quello là, il predatore. Dovete arrivare al livello 10. Cacciatore... No, ho tirato le scelte, se non mi sbaglio, ho tirato le scelte, livello 10. E poi, con l'uscitore d'erbe, livello 10. Fatto questo, vi dà un'altra percentuale. E poi sbloccare le 94 aree del gioco, che se voi andate sulle statistiche, andate sotto, vedi, 94 zone scoperte. E poi vi dice pure qua le varie scoperte che non avete scoperto. New Austin, comunque sarebbe New Austin, Messico, e dove c'è Blackwater, praticamente. 17 su 17. Io queste le ho fatte in automatico, facendo le missioni del gioco, gli sconosciuti. Finendo il gioco mi sono fatte... I fugi, ve li faccio vedere subito, uno qua, uno qua, uno qua. Che poi alcuni ve li dà in automatico, senza comprarli, eh. Dove ci sono le casette verdi. Poi andiamo su New Austin. Queste qua, perché rimangono blu, anche se le comprate poi rimangono blu, perché sono quelle che si affittano, quelle non vengono contate. Soltanto quelle che comprate e rimangono permanenti. Questa casa qua che si compra. Questa qua è la casa di giorni che si sblocchiano come... E questa qua si compra pure a Blackwater. Oppure la davano già, non mi ricordo. Vabbè, comunque. E poi, una cosa importantissima. Ultima cosa da fare... Ah sì, i cavalli. Dovete domare i cavalli. Dovete fare la missione per domare i cavalli. Una qua, ciupa rossa. Questo qua. E una... Aspetta, che mettiamo solo... E una qua. Questo qua. Basta completare una volta sola. Domate un cavallo in questa zona, in quella zona, in qua, ciupa rossa. Una volta sola. E già va benissimo. E poi acquistare le cinque armi... Cosa mi dà da questo? E poi comprare le cinque armi leggendarie, che sono queste. La revolver. Le mat. E poi c'era... La pistola Mauser. Il fucile Carcano. Carcano. Il cechino. Le Evans a ripetizione. Siamo a quattro. E poi il fucile semi-automatico, questo qua. Sono sparsi nei vari armaiuoli della città. Delle varie città. Il cecchino. E la pistola Mauser la potete trovare qua a Blackwater. Nel negozio di Blackwater. La pistola, questa. La Lemath la potete trovare qua nel negozio, qui, in Messico. E le altre due, se non mi sbaglio, una è ad armadillo e una è qua. Non mi ricordo. Comunque, voi sicuramente ci andrete prima o poi in questi armaiuoli. E le troverete, comunque, insomma. Niente, fatto tutto ciò, raggiungete il 100% e sbloccate il trofeo per avere fatto il 100%. Dopodiché potete passare al DLC e fare i restanti trofei secondari, diciamo. Detto questo, a posto. Poi c'era anche il trofeo di guadagnare la massima fama, il massimo onore, quello che io già ho fatto. Oppure la massima fama, tipo, non mi ricordo che cazzo c'era, aspetta. Onore o fama? No. Vabbè, la fama è leggenda. Ok, quella per forza, non può andare sotto. E l'onore, o tipo il più basso livello di onore, o il livello più alto di onore, insieme a quello di fama. Che per forza deve stare al massimo, se non mi sbacerà questo trofeo qua. Vabbè, detto questo, niente. Vi aspettiamo alle prossime live, che sicuramente saranno su Anti the Nightmare, e poi qualche video sulle secondarie, sui segreti di Anti the Nightmare. Ciao a tutti, da Tiger. Massimo. Rocco. Chair. Grazie.